Bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FabiJ Siccome è l'ultima volta che ho giocato a Raft e vi è piaciuto un sacco Ho deciso di giocarlo online, visto che si può giocare online Ho invitato Ciccio e Pietro Insieme siamo in tre sulla zattera E... Sono successe robe, buona visione Comunque ragazzi io ho notato che in sto gioco si può fare sta cosa Poi switchare da Maya, che è una tipa a quanto pare Pensavo sono un ragazzo Ha un Rasta Incredibile Sempre piedi nudi, con una fondina Tipo pistola, non capisco Vabbè, puoi unirti al mondo Ma come facciamo a starci in tre su sta zattera che è grossa quanto Mi sto unendo Ma non ci stiamo Ma cosa vedo? Sono a dieta io Ciao Cosa ho visto per un attimo? Ricastrato in mezzo, era bellissimo Guarda Leo Caruso Hai tenuto il nome vecchio nel ricordo di A Way Out Ciccio E niente Ciccio muore nei giochi Ma sempre Ma sto... E' uno spoiler Te l'ho detto che non c'è spazio Inutile che proviamo a fa' ste cose Sento la puzza di qualcuno e non credo sia Ciccio Ma... Allora se li vedi tutti sti cosi schifosi qua inquinato Ecco Tu fai quello che recupera le robe Ok Lo squalo non lo puoi ferire perché ti serve la roba che farei dopo Tu recupera tutto il possibile I barili hanno un sacco di roba, prendeteli Ok Fidatevi del mio con... del mio coniglio Ma se arriva qui lo squalo che si fa? Lo squalo attacca ogni tanto la zaffera e stacca un pezzo Ah Più di quello non fa Visto che abbiamo poco spazio Visto che abbiamo tanto spazio Come lo fermiamo? E niente Per un attimo ho sperato ci fosse più spazio sulla barca No Invece Aspetta Mi serve della plastica rega Buttatemi un sacco di plastica Oh che spalle Che in una plastica dai Ce l'ho io Deccato Deccato la plastica Porcia vacca quanto posso ampliare adesso Oh Spazio Ancora la plastica Ne servirebbe ma vabbè Un'isola Sì In questo gioco è successo una roba strana L'isola si avvicina a te Ma non è che noi ci avviciniamo all'isola Eh potrebbe essere però non l'ho mai capito Allora la prima cosa che bisogna fare è premere il tasto tab Vedete che ci sono un sacco di oggetti Sì Prima cibo acqua non serve a niente perché tanto noi siamo al digiuno Ah perfetto Su strumenti quindi il simbolo del comunismo Avete Ma cosa Bartello da costruzione Quello là vi serve per fare le cose che ho appena fatto io E comunque credo che la tua teoria sia giusta Siamo noi che ci avviciniamo Non è l'isola che avviciniamo sia noi È un po' difficile Ho realizzato adesso che è un po' antifisico che è un'isola che avvicini a noi E io nello scorso video ho detto Ragazzi si sta avvicinando un'isola Ma come? Eh oh mi sembrava Ah mi sa che abbiamo un problema qua dietro Ah è affamato Eh non puoi fargli niente Non puoi fargli niente Sai cosa? La lancia in legno serve Allora se tu guardi a sinistra dell'isola c'è una zattera in fondissimo La vedete? Ma se tipo ti stabilissimo sull'isola? No Eh però la zattera ci serve per muoverci Perché poi con la vela ci possiamo muovere in giro Vabbè ma Non ci conviene Andiamo sull'isola Qualcuno la lascia? Io no No Cavolo devo fare lascia velocemente Aspetta veloce se riesco La sto per fare se voglio D'accordo d'accordo Ma quanto sporco sto mare Scusi dove siamo finiti? Cazzo la messina Ma no Arrivo arrivo Eccomi Vado io Vado a prendere delle robe Servono Ok Voi sopravvivete lì Raga Non mi abbandonate raga Ciao Aiuto Io sto raccogliendo cose che ci servono Ciao Ho un rottame Come hai fatto tra un rottame? Anch'io ce n'ho uno A che ce l'ho io? Grandi raga Un rottame I rottami servono tantissimo Allora io le sto sto andando a prendere Che butti mi l'acqua? Eeeh no Sto vedendo se riesco ad andare alla zattera Perché alla zattera c'è un altro rottame Fisso Ma c'è un'altra isola qua davanti Non è Ah c'è un'altra isola è vero Eh però quella è un'isola alta Ci serve la scala per arrivarci Non abbiamo i rottami per fare la scala O meglio ce l'abbiamo Ma dobbiamo unirli tutti Ma come si ferma qua la zattera? Non c'è un freno Porca vacca Non c'aveva niente sta roba La zattera Non c'è un freno C'ha la vela Che possiamo mettergli dopo Guarda come si fa la vela Ma raga ma avevi passato un barile vicino Ma siete orbi Ma non ci arrivi Troppo distante guarda Ma siete scemi Ma ci arrivo io a prendere l'annodo Scusa Lore Siamo troppo in da fare Di a costruire qui Cosa Cioè qua lavoriamo Ho trovato un rottame Non avete idea di quanto servono i rottami Abbiamo fatto più in dieci secondi noi Che io nello scorso video Occhio che c'è lo squalo Che mi sta per addentrare Aia Stai a posto? Beh più o meno Sono stato meglio Ma il megalodonte di Sea of Thieves Oh prendeteli Vedi tutti questi quattro barili Oh il mio barile Vedi questi quattro barili Li voglio tutti ragazzi Tutti li voglio Occhio lo squalo Tranquillo Non ho paura di un semplice squalo Va bene Allora adesso è il momento di fare le cose Io faccio Del cibo Voi Costruite Ampliate un po' intorno Se riuscite Allora io cuocerei Allora tieni Vi do questi Allora guarda Una a testa Ci siete uno Ecco niente Te lo lanciate tutte e due Ne mangi uno e lo dai agli altri Ok Dove dov'è? Ho messo io No E mangialo mangialo Ok E non ci Non l'ho mai visto cosa c'era sopra Perché non sono mai riuscito ad andarci Ma fermiamoci Prendiamo Non puoi fermarti Appliamo questo posto schifoso E costruiamo una scala Anzi se riesco a fare la vela Mi avvicino io Allora aspetta Faccio io la vela Allora vela Rottami Datemi un rottami Un rottami veloci Veloci Vieni qua Do sei Raga faccio io Fidatevi Ho una pagaia Avvicinati all'isola Dov'è l'isola? Oh Serve per quando non c'è vento Perché in realtà serve C'è la direzione del vento in sto gioco Oh Aspetta Niente abbiamo perso il pagaiante Ok ci sono Il pagaiante Raga qua c'è una patata Ma la mangio io Allora Ora ci serve la scuola Quanti rottami avete ancora? Pietro? Due Perfetto Hai due rottami Quindi facciamo questa cosa Aspetta Con la lancia Con la lancia Vai Quattro colpi Quattro colpi Quattro Bravissimo Avviciniamoci al coso Allora io faccio la scala In tre secondi abbiamo fatto quello che nell'altro video non sono riuscito a fare Ah noi bulloni servono per sto schifo Vabbè dai Come si fanno i bulloni? Porca va che sto sbagliato Noo Ok ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ok siamo arrivati Perfetto Perfetto ho fatto la scala Gira Avvicinati 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 Aia che male Bravo Ancora un pelo Ancora un pelo Ah Aia Dai No Non c'è Secondo me serve un'altra scala Raga è troppo bassa Eh ma non riesco ad arrivarci Sai Porca schifo Sto dando facciate E arriviamo alla parte piccola Questa qua Ma perché io devo pagaire io? Basta Ce l'hai tu la pagaia Ma non si vede praticamente la pagaia per fare sta cosa Sto arrivando all'isola di nuovo da solo Ho quasi finito la pagaia Dobbiamo sfruttare Orca vacca Devo avvicinarmi non ci arrivo Non ci arrivo per un niente Mi si è rotta la pagaia Non ci arrivo per nulla Sono riuscito a salire Sono riuscito a salire Sto prendendo i cocchi Sto prendendo i cocchi Tu pesca io prendi i cocchi Fai il depuratore dell'acqua Il depuratore dell'acqua Falle Ci fai tu il depuratore dell'acqua Ci provo Sto Sto Io sto prendendo roba qua Mangia e bevi Fai cose Ma se non metti il fuoco sotto il pesce Cosa cuoci? Ma tu sei scemo Faccio io raga Questo è il depuratore dell'acqua Ora vi dovete fare solo la tazza vuota Ok Raga arrivo eh Mo facciamo un contenitore bello grosso E lì ci mettiamo tutte le provviste Va bene? Visto Ok Cos'è questo? Ho qualcosa di stranissimo Nell'inventario Cos'hai? Ho un Antenna Progetto ricevitore Tu hai il progetto antenna Questi cosi servono per trarci in salvo Però Ci metteremo un botto a farlo Che cazzo? Oh Guarda ciccio Pietro Devi prendere Devi prendere In cima c'è un coso Dove devi prendere Ci sei? Qui? Prendilo Si in cima prendilo Preso Oh porco Cos'è successo? Cos'è successo? Che c'è? No 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 Perché? No Che c'è? Eh no No Ragazzi Aiuto Se ne ha accorto un'ora dopo Quando ha messo la musica Ha detto Ma che sta Non capito Da sopra Infatti Se ne ha accorto Dopo che stava negando Quindi ragazzi Spero che il primo episodio Secondo Però il primo online Di raft Vi sia piaciuto Nel prossimo episodio Amplieremo un po' la zona Cercheremo di fare robe più fighe A me sta piacendo Veramente un botto E penso anche ai ragazzi Quindi Ragazzi Spero che vi sia piacendo anche voi Com'è se vi è piaciuto Se non mi piace C'è il video di descrizione Se non sono così Discrivetevi E noi ci vediamo Alla prossima Bye ragazzi